Siamo a Parigi ragazzi, eccoci qua Sono le 8 e un quarto, abbiamo il treno al... sì, il treno Abbiamo l'aereo alle 10 e 20 e arriveremo lì a mezzanotte e 20 Allora, che ore sono? Vuoi proprio farmi rosicare, vero? È l'una e mezza e domani abbiamo yoga alle 6 e un quarto Però alle 6 e un quarto dobbiamo essere là Nooo Quindi partiamo alle... Non dirmi, non dirmi, domani un attimo mi svegli tipo alle 3 e mezza, quello che sarà Mi tiri giù dal letto e poi ci andiamo Ma non dirmi adesso Non so come mai abbiamo scelto Però Marco Tomasini dice sempre uscite dalla vostra zona di comfort Sì, ma dice anche dormite 7-8 ore a notte Sei felice di questa lezione di yoga? Super approvato, dai, ce la possiamo fare, è vero? Deve essere maestro di Kung Fu Panda lì, altrimenti non mi accontento Ne è valsa la pena? Allora, ho rischiato di morire più volte, voglio essere sincera Tu com'è andata? Bellissimo, è stata la yoga session migliore che abbia mai fatto, raga Andiamo al nostro ristorante Mamma, mamma, caca Allora, Jennifer è ubriaca dopo mezzo moito Non è vita Adesso gliene faccio bere altri 5 Allora, ce l'ho fatto, ho fatto ubriacare Jennifer Non so quali saranno le conseguenze Sembrano conseguenze importanti Salvatemi E se volete venire ad allenarvi Venite in questo appartamento Perché le scale sono più ripide del Monte Bianco Guardate Se volete fare un workout di gambe Pobre lì Stasera Marco mi porti in un posto speciale Questa sera andiamo a mangiare la paella Che non ho mai capito come si pronuncia E a bere sangria Tanto basta mezzo sangria E Jennifer Saluto Ci vediamo dopo Ora andiamo a mangiare Stamattina abbiamo registrato un po' di contenuti Adesso andiamo al mercato Alla rambla Porterò Jennifer a fare un tour E posso scommetterci le mie palle Che Jennifer impazzirà al mercato centrale Quindi tra poco partirà un montaggio pieno di colori Ok? Vai 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 Non fermarti Marco mi ha detto che avrei fatto una bellissima faccia vedendo il mercato Però è chiuso in questo momento Per Marco oggi non è una bella giornata Ma era la roba più bella da vedere Posso scommetterci le mie palle Visto che non è riuscito a portarmi al mercato centrale Ho deciso di portarmi qua Vendete Mojito la Marapuja 40 euro abbiamo sceso per Marapuja Mojito Cos'è che gli hai detto scusa? Ha detto che niente Un tossico mi ha regalato il girasole Allora io l'ho data a Jennifer Siamo a Parigi ragazzi Eccoci qua Penso che il mojito sia ancora in circolazione Tipico cibo spagnolo Adesso andiamo a provare a fare surf Se facciamo a tempo Perché in realtà le 9 e mezzo dovremo essere lì E sono le 9 e mezza No sono le 9 e 18 ma abbiamo Mezz'ora di strada Mezz'ora di strada Let's go Abbiamo ufficialmente detto Ma dato che portava via troppo tempo Abbiamo deciso di farci uno shooting fotografico Dopodiché abbiamo una sessione di yoga pazzesca Avremo la classe di yoga Però arriveremo in ritardo anche a quella Perché lui ha preso due balls Dopo la nostra sessione di yoga Andiamo di nuovo al mercato centrale Perché ieri era chiuso Che super sessione di yoga abbiamo fatto Porca vacca Come c'è se vedete me è sempre più carina è sempre uguale io ve l'ho detto che ci teneva particolarmente queste maglie ecco ragazzi ogni volta che io vado in un posto è sempre ristrutturazione guardate che bella adesso facciamo una gara io e Jennifer che arriva prima in cima a tutte queste scale è lenta come la m***a sono questi i vostri fitness influencer che non sanno correre voglia non lo volete voi un uomo così? Marco è agitatissimo perché il tassista ci mette un minuto ma che un minuto è? 20 minuti che lo aspettiamo? c***o che vera? calmati siamo nel nostro 24esimo taxi in due giorni un ringraziamento al nostro tassista che è arrivato a 25 minuti in ritardo ragazzi anche i 5 minuti ci ha messo poverino ragazzi mi sono sentita chiamata dal balcone guardate che mi dice sempre di non stare ai social e invece li usa ai social sempre al telefono i giovani d'oggi frutta stupido a mezz'ora che aspetto apri questa c***o di porta oh Romeo, Romeo che ho fame e perdiamo l'aereo perché sei tu Romeo? apri questa c***o di porta Jennifer stai pronta Jennifer stai pronta guarda 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 che ritardo come sempre guardate perché è in ritardo Marco ancora i baffetti pieni di latte di base dobbiamo uscire di casa alle 5 sono le 6 siamo arrivati termina qui il nostro viaggio gli ho fatto comprare una nuova maglietta sono un po' egocentrico ogni tanto mi piace la mia nuova maglietta comunque Leoni grazie mille di aver visto questo nuovo primo video del canale Marco Tomasin Extra Extra e iscrivetevi al canale per nuovi contenuti del genere se non volete più vedere Jennifer fatemelo sapere che mi ha rotto le palle assolutamente sono io la star di questo canale il prossimo viaggio è ancora più esatto quindi Leoni è stato un piacere iscriviti al canale e ci vediamo presto